Si è svolto nel centro italiano-venezolano di Caracas un simpatico bingo, organizzato dall'associazione Laziali nel mondo, che presiede la signora Giannina Di Nardo. Così, giovani e meno giovani hanno trascorso un pomeriggio un po' diverso, tanti premi in palio, tutti donati da soci e simpatizzanti dell'associazione. L'allegria è stato il comune denominatore tra quanti hanno risposto all'appello dei Laziali. Il ricavato del bingo sarà destinato dall'associazione Laziali nel mondo di Caracas ad aiutare i corregionali meno fortunati.